Buongiorno amici, ben arrivati a tutti! Masha, ma perché ci hai fatto venire? Non ci hai ancora detto niente? Lo sai che noi siamo curiosi? Sì, Masha, Peppa ha ragione. Perché siamo qui? Non capisco. Aspettate, aspettate, vedrete. Non dovete avere fretta. Ma è da ieri però che stiamo aspettando. Noi non capiamo niente. Cosa sono tutti questi barattoli di pasta qua dietro? Ecco, appunto. Allora, adesso vi spiego. Ho organizzato la gara della torta di Play-Doh la più bella. Wow, che buona idea che hai avuto, Masha. Mmm, quindi ci divertiamo oggi, giochiamo con la pasta. Oh, Masha, non hai idea di quanto mi piace il Play-Doh. No, vedo l'ora di iniziare. Dai, cominciamo. Va bene, ragazzi, però nella gara ci sto anch'io, eh. Quindi la gara è questa. Chi fa la torta più bella vince il super premio. Evviva! Allora, intanto vado a prendere la base delle nostre torte. Oh, mamma mia, come sono pesante. Ecco, le ho fatte cadere, lo sapevo. Oh, ci riprovo. Oh, oh, oh. Ecco qua. Allora, una per voi, una per Ben e Ollie, una per la Peppe e George, e una per me. Oh, non vedo l'ora di iniziare. La nostra torta sarà la più bella. No, 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 Gatto Boy, la torta più bella sarà la nostra. Non credo proprio. Vedrete che torta che faremo io, Ben. Ok, ragazzi. Do ufficialmente il via alla gara di torte. Si parte. Allora, 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 io... George, George, facciamo che... Ci mettiamo... Non lo so. Tante polpette. Oh, sì, 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 sì. Oh, Ollie, Ollie, noi che cosa ci mettiamo in questa torta? Mmm, io, Ben, la farei con tantissime rose sopra. Oh, ottima idea. Oh, ragazzi, ragazzi, noi che cosa facciamo con la nostra torta? Mmm, ho un'ottima idea. Aspetta, guffetta, e vedrai. Bene, e io che cosa ci metto sulla mia torta? Mmm, io intanto vado a scegliere la pasta giusta. Mmm, prendo questa fucsia. Amici, manca un minuto alla fine della gara, sbrigatevi, finite bene la vostra torta. Allora, io, un po' di qua, un po' di là. Oh, io ho finito. Che bello. Ma no, George, non la devi mettere così. Devi fare così, guarda. Oh, brava, Peppa, tu sì che sai fare le torte belle. Ben, secondo te va bene così? Ollie, guarda, secondo me è bellissima. Vedrai che vinceremo noi. Mmm, io non è che sono tanto convinta, ragazzi. Siete sicure che basterà così? Ma sì, guffetta, vedrai, è bellissima. Ok, ragazzi, il tempo è scaduto. Giù le mani. Sì, 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 Masha, noi abbiamo finito. Guarda, siamo proprio pronti. Oh, speriamo che vinceremo noi con questa bellissima torta. Oh, George, speriamo che piacerà il giudice. A me piace da morire. Oh, Ben, cosa dici? Secondo te andrà bene? Ma Ollie, te l'ho detto, la nostra torta è la più bella. Ok, anche io sono pronta. Non vedo l'ora di vedere che vincerà. Ma scusa, Masha. Ma, visto che hai fatto anche tu una torta, non puoi essere tu il giudice. Se no, farai vincere te stessa. E quindi? Chi è che deciderà chi ha fatto la torta più bella? Oh, arcipicchia Ollie, hai ragione. Non ci avevo mica pensato. E adesso? A chi chiamiamo? Ah, lo so, lo so. Chiamiamo a Orso. Vado subito a chiamarlo. Ecco, ecco, Orso sta arrivando. Quando io prendo posto... Oh, 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 oh. La torta più bella? Mmm, buone le torte. Oh, 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 oh. Eccomi qua. Ok, Orso. Adesso tu hai un compito molto, molto, molto importante. Devi giudicare la torta più bella. E non ho detto la più buona, non le devi mangiare. Devi solo guardarla, hai capito, Orso? Sì, 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 capito, Orso. Solo guardare. Allora... Mmm, torta bene, Ollie. Mmm, oh, vediamo bene. Mmm, carina. Una rosa. Mmm, bella. Sì, 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 bella. Mmm, torta Peppa Pig. Mmm, che bei cuoricini. Mmm, bella, bella. Sì, 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 sì. Mmm, torta pigiamasca. Mmm, polpette. Mmm, miam, 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 buone le polpette. Sì, carruccia. Torta mascia. Mmm, un fiorellino. Carino, carino, carruccio. Sì, sì, sì. Mmm, che scelta difficile che devi fare, Orso. Tutte torte molto, molto, molto belle. A voi, bambini, quale torta vi è piaciuta di più? Quella di Ben e Ollie, a forma di fiore? Quella di Peppa Pig a forma di cuori? Quella dei pigiamasco alle polpette tutte colorate? O quella di Masha col fiorellino? Mmm. A me è piaciuta. Mmm, 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 mmm. Quella di Masha col fiorellino? Sì, evviva, evviva, evviva. Ho vinto io. Grazie, Orso. Oh, non è giusto. Orso è di parte. Uffa, lo sapevo che avrebbe vinto Masha. Con Orso come giudice era ovvio. Sì, beh, io continuo a pensare che la nostra torta era la più bella, Ben. E comunque ho vinto io. Evviva! Grazie, 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 Orso. Mua! Mua!